buongiorno amici buongiorno amiche un saluto a pasqui che ci ospita nel suo bel canale oggi siamo vedete qui con la radio di una 500l priva di android auto priva direi di molte cose forse troppe però la soluzione ce l'abbiamo qui sopra eccolo qua un display molto grande molto luminoso calcolate che adesso io sono sotto una luce abbastanza intensa altrimenti si vedrebbe ancora ancora meglio questo display lo ha appoggiato sul cruscotto di questa macchina vedete quanto è grande guardate è alimentato con la presa accendi sigari nella sua scatola c'è un braccio a ventosa c'è le istruzioni e come vedete c'è poco altro il cavo audio che però secondo me non vi servirà perché non vi servirà questa è la scatola la chiudiamo perché non vi servirà allora io adesso sono collegato ad android auto wireless allo smartphone samsung con cui sto facendo il video è partita la musica funziona tutto perfettamente e senza lag anche l'assistente vocale previsioni meteo domani roma forse non avete sentito perché ho il volume basso ma ha detto perfettamente le previsioni di di roma allora lui è dotato di una cassa integrata che non è non è fantastica ma non è neanche non è neanche male calcolate che molti altri molti altri prodotti simili non hanno una cassa integrata lui ce l'ha poi che cos'altro ha vediamo qua vedete c'è la presa usb c per alimentare poi c'è una porta se forse non riuscite a vedere una micro sd io qui ho inserito una micro sd dove ho messo un video musica un video e della musica e poi c'è la porta aux la porta audio scusate sopra c'è l'alimentazione e qui a sinistra non c'è non c'è nulla di di particolare vedete dietro c'è la dissipazione e le casse molto solido molto bello regolabile come vedete allora come vi stavo dicendo la musica l'audio si può avere dalla cassa integrata ma io in questo momento la sto sentendo nelle casse dell'auto come ho fatto ho messo qui il canale 106 sulla radio fm e come vedete qua nelle impostazioni si mette 106 come nella radio si mette trasmette il segnale e quindi l'audio di android auto che voi lanciate qui lo sentite stereo nella macchina c'è anche una modalità bluetooth che è indicata nel manuale quindi potete ascoltare via bluetooth se la vostra è una radio bluetooth potete ascoltare via stereo la il segnale del del display io in questo momento sto usando la fm perché la prima che ha utilizzato e comunque funziona bene senza nessun problema regolando vedete il volume dell'auto sta riproducendo il brano che è in riproduzioni su spotify allora detto questo abbasso un attimo il volume torniamo al al menu il menu è scarnissimo quindi carplay wireless android auto wireless questo vi servirà quando è chiuso carplay quando è chiuso android auto wireless qui potete riprodurre video e musica presenti nella sd che avete inserito qua questo abbiamo già visto per la trasmissione alle casse della macchina del del suono e qui un settings molto basico vedete c'è un microfono per il controllo vocale la posizione di guida il linguaggio non c'è italiano però vi dico sono così poche le funzioni che non serve a una mazza il reset e il firmware da notare che il firmware è aggiornatissimo siamo al 2023 quindi un prodotto che è stato da poco o rilasciato o aggiornato finito non c'è altro velocità fulminante quindi poche funzioni ma che funzionano bene allora quindi una macchina come questa voi anziché andare a cambiare qui tutta la radio spendere un macello di soldi andrete a montare questo display che è ben luminoso che ha anche l'audio integrato che costa veramente poco e avrete in una macchina vecchia tra virgolette una funzione come android auto wireless per di più con un display molto grande che si sognano anche anche macchine premium da da 50 80 mila euro non tutti hanno un display così grande veramente enorme quindi voi con una spesa minima vi mettete android auto wireless o carplay wireless in auto io come sapete ho recensito moltissimi prodotti moltissimi adattatori ma come dire bello come questo nessuno costa poco funziona benissimo se io vi dicessi che questo prodotto costa 150 euro lo dovreste comprare comunque perché li vale perché lo schermo è grande perché è velocissimo e perché funziona bene in realtà costa molto meno vi metterò in descrizione del video il link all'acquisto quindi vi ripeto a me il prodotto è stato mandato in prova ma non sono obbligato a parlarvene bene e invece vi dico che è una bomba atomica funziona bene potete riprodurre musica video da qui android auto wireless è qui carplay è qui punto fine tutto in un bel display tutto con tutti gli accessori che che servono quindi consigliatissimo per adesso vi saluto da questa 500 che mi è stata prestata e ci vedremo presto con dei nuovi video ciao